C'è un ragazzo che è interessante. La sua goffaggine è molto naturale. Non è costruita. Sì, si chiama James Dean. Voglio fare un servizio fotografico. Su un attore sconosciuto. Io sono Jimmy. Io Dennis. Che dici, le facciamo queste foto? Mi farai diventare famoso? Garantito. Si va a bere qualcosa, volete? Si sente nell'aria. Le cose cambiano. Nella musica, nell'arte, ovunque. Jimmy è tutto questo. Il signor Warner ti vuole, Jimmy. John Barrymore, Douglas Fairbanks, Cagney seguivano certe regole. Se sei un pre-bogert, puoi anche vederti con qualche amico. Stai al gioco qualche settimana ancora. Un bel respiro e sorridi. Io perdo me stesso nei miei ruoli. Non voglio perdermi anche in questa roba. Che cosa c'è? Devi mollare tutto. Dai, andiamocene via. Jimmy, siamo molto felici di averti qui. Siamo fieri di te. Pensavo di trovare qualcosa di meraviglioso che si sarebbe rivelato a me. Il problema è che tu pensi a me come all'oggetto della tua ricerca. È cambiato tutto così in fretta. La fotografia è un bel modo per dire io c'ero, tu c'eri. Viviamo di speranza.